Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. L'obiettivo questa volta era una sconosciuta, una donna che poi probabilmente si è ammazzata per la vergogna di questo debunking, di essere stata presa in castagna. Cosa vuoi dire su questo, visto che non hai mai parlato prima in TV? Allora, intanto io non stabilirei questo onesto causale tra il suo suicidio e il debunking, non sappiamo nulla. Io credo che un suicidio nasconda sempre una realtà molto più complessa e non ne voglio parlare perché voglio rispettare Giovanna Pedretti, diamole un nome e un cognome, non voglio dire questa signora. Il nostro obiettivo, soprattutto il mio compagno perché il debunking l'aveva fatto lui, poi io sono finita nel calderone perché l'avevo ripreso, non era la ristoratrice o la sconosciuta. L'obiettivo del debunking è la notizia, è lo smontare una notizia che è stata raccontata male, che è stata raccontata in maniera spesso sciatta o addirittura all'interno un sacco di falsità che inevitabilmente poi vengono fuori. Ecco, questo è un passaggio importante da sottolineare perché non ha importanza la notorietà, diciamo così, del protagonista di questa notizia. L'importante è quanto questa notizia abbia avuto diffusione, perché il debunking si fa sulla notizia e in questo caso aveva avuto una grandissima diffusione. Io ritengo, tra l'altro, perché credo che la tua domanda sottintendesse un po' questo, che non ci si possa porre il problema sempre di quanto debole sia la controparte, di quanto sconosciuta sia la controparte. C'è sempre un principio di precauzione, su questo siamo d'accordo, dobbiamo proteggere il protagonista della notizia, tutto quello che vuoi. Però, Corrado, è anche superficiale ritenere che persone che invece hanno una grande popolarità, che sono anche ricche, esposte, eccetera, abbiano sempre la struttura psicologica invece per sopportare tutto. Io eviterei questo tipo di banalizzazione del problema. Sono più abituati, diciamo, perché sono più esposti... Ma sai, l'abitudine non vuol dire niente, però, Corrado, l'abitudine non vuol dire niente, perché noi non conosciamo il momento di vita di una persona, non conosciamo neanche le condizioni cliniche di una persona. Cioè, pensa adesso, un po' di tempo fa si è suicidato il manager di Visibilia, te lo ricordi, no? Certo, come no, come ne abbiamo parlato, l'avevamo anche intervistato prima, insomma. Lo sai molto bene. Ecco, appunto, per quello ti dicevo, cosa sappiamo, cioè, dove si è andata a innestare l'inchiesta? Cioè, si è suicidato per l'inchiesta? Non credo. Credo che probabilmente il tutto si sia innestato in una situazione molto più complessa. Allora, mi sembra anche semplicistico dire che il cittadino comune è più debole. Io credo che ci sia stato un linciaggio mediatico nei vostri confronti, questo è quello che penso, molto strumentale. E di questo sono assurante certo. Due cose, secondo me, emergono. La prima è che i giornali, come tu giustamente hai fatto notare, amplificano enormemente i casi immersi sui social, senza fare poi adeguati controlli e quindi prestandosi poi al debunking di chi fa questa operazione. E i giornali, in effetti, hanno parlato molto a lungo e molto con grande spazio, i giornali, ma anche altri siti legati a grandi gruppi editoriali di questa storia. Però la seconda cosa è che ci sono persone che non reggono la pressione mediatica che si crea attorno a loro e che richiedono più attenzione possibile da parte nostra di noi che abbiamo a disposizione dei bazooka mediatici. Tendenzialmente sono portato a pensare che questo accada di più alle persone meno note rispetto a quelle note, anche se non sempre. Noi siamo più abituati all'attacco, probabilmente anche tu all'inizio sei rimasta più sconvolta dagli attacchi che hai ricevuto via social quando eri più giovane. Piano piano anche tu, diciamo, hai capito che cosa sono i social, come funzionano e ti sei più vaccinata. Almeno a me è successo così. Quindi questa storia qui forse ci racconta comunque che noi abbiamo dei bazooka in mano. Sì, però Corrado, questo è un principio di precauzione che dobbiamo avere tutti, cioè tutti i giornalisti. Certo. Voglio dire, quando c'è stato il caso del tizio di Sanremo che andava a timbrare il cartellino in mutande, anche lui era una persona comune. Certamente. E i giornali l'hanno massacrato, hanno diffuso il suo video, lui è stato processato, ha perso il lavoro, eccetera. Lì però a chi si fa il processo? Al sistema. Lì si fa il processo al sistema perché tutta la stampa ne ha fatto carne da macello. Siccome io, e qui torniamo forse un po' al caso Chiara Ferragni in un certo senso, sono anche, se vogliamo, un nome e un cognome nel giornalismo e i miei social hanno il mio nome, il mio cognome e sono molto, diciamo, noti e hanno una platea molto vasta, allora qualsiasi cosa succede è lei che è cattiva. Allora è cattivo pure il Corriere della Sera, è cattiva Repubblica, è cattivo Il Fatto, sono cattivi tutti i giornali. Però in quel caso, come dicevo prima, sono entità astratte e quindi non si processano.